Non ci chiede subito Ah infatti si Cioè se muore per sbaglio non va bene Duskball vai Duskball vai dentro la Duskball Sfricate Qui in grotta Paralizzato vai Non è entrato Tutti Quanti Duskball c'hai? Una E poi ce l'hai ultra? C'ho allora Pokéball 14 Io il Ball 1 Premier Ball 1 E Grid Ball 1 Ok Ce l'ho dovresti fare Non so che cosa fargli Se fargli tipo Quick Attack Gli devi usare Pokéball subito Perché poi di tanto farà Stake Down da solo E quindi si leverà a vida da solo Meglio se massimizzi le probabilità Cominciano a già tirare i Pokéball Sì 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 Cazzo Sprego tutto Infatti si Ti ho visto tutto Voglio Voglio Un culo Di ragazza Dragon Rage Oh Questo mi è shotta Porca troia Oh Devo pure Utilizzare super pozioni Porca troia Devo catturarlo Sto kibble del merda Fai take down te prego Cioè se ci avevo un po' più davanti Con Dragon Rage era morto Parizzato Sì Con fin a lanciare gli Pokéball sti cazzi Porca troia Entra ti prego Entra 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 Porca troia Non è entrato Entra No no c'ho Dragon Rage Questo Questo mi ammazza Gibble ti ammazzo Prego Entra Non fare Dragon Rage Ormai paralizzato Bravo Non so se fai quick attack onestamente Che attack di stare Che è forte cazzo Stappato pure Allora Fammi vedere che il Pokéball non c'ho va Forse combrieremo a Nye Forse combrieremo a Nacoso Polaretto Dragon Rage lo regge Perché sta a 48 HP G40 Quindi rimane a 8 HP Bene Calculated Tenet attack Sì cazzo Ti faccio tipo back Mi faccio una cosa del genere stupida Che non l'ammazzi sicuramente Lo prima devo curare a me Se no mi fa Dragon Rage Mi raga Faccio Sì ma se mi deve fare Take down No Dragon Rage Non lo fa take down Fa Dragon Rage Rage So col Rage o col Naso Dai ti prego Dai Madonna Questo Gible deve entrare Tra Pokéball Lui non ce la faccio Senza Storm Darude Oddio 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 Ok 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 Grateful Vai Speriamo di dare Grateful Che sta a paralizzare la vita gialla Vai Entra 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 Ti prego Entra 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 Non cazzo Non è entrato Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììhiììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Alleno subito, main della run, land shark, name, darute, vai, darute, vai, porca troia, vai, gible, porco dio, ok, addirittura, non è molto nessuno può incatturarlo, cosa buona è questa? Sì, se lo alleno, alleno 4 pokemon, sti cazzo, dream team, devo trovare la terremoto però, almeno glielo metto subito, cazzo, ma l'ho imparato solo? Oddio, si trova, ah, gioia tutti però l'ho già catturato, quindi, se non sbaglio si lo imparare solo, però a livello alto penso, lì c'è sta proprio la mette, nel caso glielo metto subito, vediamo un attimo. Ma è il setter. C'è un sacco di roba qua su. Sì, c'è un paio di roba. Ma c***o che buono, dubito. Abbastanza. Dragon Rage è comunque una donna, ma debolita un po' di cosa. Un'altra forma. Un 2. Un 2. Pur che buongiano 20 si trova, porca troia, poi l'ho di rossetti però. Vabbè, fa niente, almeno può essere un turno per più livelli e più 2. lo dovi però come sottiene aspetta devo mettere davanti ok zitto un attimo in ultima stanza ah no cazzo mi sono dimenticato ce n'è un'altra ok calmo ok questa è la vera ultima stanza però questa è facile quindi ok zitto si si cazzo si cazzo proprio quante te ne mancano due si oh ti ho sfiorato il cuore alla fine madonna alla fine stavo proprio per morire alla fine all'ultimo dash stavo morendo bravo il bello è che questo è il secondo più difficile ed è ancora per il terzo più difficile cioè il prossimo che faccio è uno più facile di questo quindi nice as fuck ciao